Cartier Calibre de Cartier, un orologio sportivo e raffinato. Il Calibre de Cartier è un orologio da uomo che si distingue per il suo audace spirito di manifattura. È caratterizzato dal primo movimento meccanico a carica automatica realizzato completamente da Cartier, noto come il calibro 1904 M. La sua cassa rotonda di 42 mm di diametro è enfatizzata da una lunetta che si estende in quattro anse ricurve, incastonate nella carrure cilindrica. Grazie alle quattro anse che si curvano verso l'interno, l'orologio abbraccia perfettamente la forma del polso, diventando come una seconda pelle. La sua silhouette elegante è sottolineata da una doppia spalla lucida e satinata, che protegge i lati della corona da possibili urti che potrebbero comprometterne il funzionamento. Anche la lunetta dell'orologio è un elemento di grande impatto. Liscia e lucida all'esterno, assume una dinamicità crescente man mano che si avvicina alla cassa. Il quadrante offre una reinterpretazione virile dei codici dell'orologeria Cartier e dei numeri romani. La figura dolcici, in sottile rilievo e di dimensioni extra large, domina il quadrante. Il doppio bariletto presente nel movimento contribuisce a mantenere la costanza a lungo termine della molla principale, assicurando precisione e affidabilità. Il calibro 1904 MC presenta anche un sistema di regolazione fine per garantire la precisione del movimento. Per consentire ai proprietari di regolare con precisione l'orologio al secondo più vicino, il calibro 1904 MC è dotato di un sistema stop secondi. Quando la corona viene estratta completamente, la lancetta dei piccoli secondi si ferma immediatamente e riprende quando la corona viene reinserita nella cassa, permettendo una regolazione precisa del tempo. Quando l'orologio è indossato al colso, un sistema di carica bidirezionale consente alla massa oscillante di caricare il movimento sia ruotando in senso orario che antiorario. Questa soluzione tecnologica mostra l'approccio avanzato di Cartier all'orologeria di alta gamma, combinando innovazione e prestazioni impeccabili. Anche se spesso nascosti dalla cassa, i ponti superiori e la massa oscillante sono decorati con le tradizionali Côte de Genève. L'orologeria Cartier ha fatto del calibro 1904 MC uno dei suoi capolavori, rappresentando un nuovo trionfo nell'arte dell'orologeria. Il calibre de Cartier, dotato del calibro 1904 MC, è parte integrante della collezione calibro di Cartier e rappresenta una celebrazione della mascolinità. Disponibile in tre diverse versioni, oro rosa, acciaio o una combinazione dei due, con quadranti nero, bianco o marrone cioccolato, questo orologio si inserisce con eleganza e audacia nel ventunesimo secolo. Il calibre de Cartier è molto più di un semplice orologio da polso, è un'opera d'arte meccanica che incarna la tradizione, l'innovazione e l'eccellenza di Cartier.